Il progetto sperimentale Il progetto sperimentale sviluppato da TSM assieme a Vision Qubit studia la possibilità di migliorare i sistemi di navigazione autonoma installati sulle macchine di pulizia e raccolta dei rifiuti sviluppati dall'azienda. Il nuovo prototipo integra la tecnologia esistente con nuovi sensori di computer vision, comunica con un'interfaccia di controllo da remoto e impiega algoritmi di intelligenza artificiale che ne migliorano il movimento nello spazio. Al termine della sperimentazione, le macchine saranno rese autonome, in grado di evitare ostacoli e riconoscere oggetti e persone, e aumenteranno il loro livello di sicurezza e le prestazioni.